Ladri messi in fuga dai carabinieri, recuperata l'intera re furtiva e accaduto a Morra de Sanctis, i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi sono intervenuti presso una sala giochi del paese dove poco prima i gnoti avevano rubato quattro slot machine, due videolotteri, un cammiamonite, un ingente quantitativo di sigarette di varie marche. L'intera re furtiva era stata caricata a bordo di un furgoncino rubato nelle ore precedenti. Giunti sul posto, gli uomini dell'arma hanno predisposto un articolato servizio con le stazioni di Sant'Andrea di Conza, Morra, Teore e Calitri, un'azione mirata che in poco tempo ha consentito di intercettare il furgone il cui autista alla vista della pattuglia ha effettuato un'inversione di marcia. I carabinieri hanno dato così vita ad un inseguimento terminato in una strada innevata del comune di Conza. A quel punto i ladri sono stati costretti ad abbandonare il mezzo dandosi alla fuga a piedi. Le immediate verifiche hanno permesso di accertare che il furgone era stato rubato in provincia di Caserta Al suo interno i militari hanno rinvenuto l'intera re furtiva e vari attrezzi atti allo scasso. Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto. L'indagine potrebbe essere facilitata dall'acquisizione delle immagini registrate attraverso i sistemi di videosorveglianza.